Sindaco, signori consiglieri, io ho voluto innanzitutto dire il mio personale dispiacire per la concezione che sono al grado, io ho voluto innanzitutto la consiglia di forza, credo che la vicenda che ci vede per voi, da conseguenza delle carenze, come sono i risultati, provata, e quindi, pur benenuato, in questa tua contrala grazia del contributo che ha dato a la domanda che si vede per la comunicazione, come sono i risultati, come sono i risultati. E nel contesto mi abito che quando si veda con l'adulto della maggioranza che si conosceva una pezzi, una cosa che si vede per voi, il Consiglio Comunale, poi riusciamo a riprendere un po' di risposta. Guardate, io vi ho detto conto che il Consiglio Comunale è una palestra per tutti abbastanza ospita, dura e struttura pubblicare. Voglio tralasciare il cosiddetto piatto alla bocca di direttore della pubblica senza neanche potersi dire pretende, ma adesso non parlate, perché se voi considerate la guerra del giorno, non ci sono sicuri che la guerra del giorno, non ci sono sicuri che la guerra del giorno, non ci sono sicuri che la guerra del giorno e l'opposizione fa il suo risposto, il risposto è un guai di spiega, è un guai di spiega, è un guai di spiega e anche un po' di bollice. Quello che non è un rispito e non è praticamente un accetto risposto, è questo tentativo di falso punitivo che è fatto per l'autorizzazione, che invece di predicare alcuni comportamenti, augurare, dichiarare, andiamo avanti, chiediamo avanti, chiediamo avanti, chiediamo avanti, chiediamo avanti, chiediamo avanti, è una cosa che non fa bene alla città, non fa bene soprattutto a lui che ha questo Consiglio Comunale. e nel punto di vista di amostra, non ci sono sicuri, cioè avvenuto in piccato il primo Consiglio del tuo giorno, al fondo del profumo del cui Stato è stato portato, del cui si è messo in campo, del Stato che non è veramente a fermato, è quello che mi dica. Allora, una ragionanza che si sente tale e figura di rontare interni combatti, poi le grosse sfide che ci attendono, i grossi punti programmatici che sono tutta al vento, si deve preoccupare per stare anche a scontate, ma lontano per una lente, riguarda per una lente, non è una cosa che il Stato sostentava, gli altri da l'articolo che dicevano di sento bene oppure. Mi spiegato così, lo diceva, non è veramente in modo imponiativo e in modo perfetto il Consigliere del suo occhio, non è che l'evoluzione della parte di loro, ci sarei detto di loro, onore scusa alla vita delle emozioni della parte di loro. E se non ci sta bene, non ci sta bene, in questo popolo non ci sta bene vinto. Noi non stiamo toccando nulla. Vada a rete in questo consicchio comunale, intendi, oltre al libro del bilancio, e in una pratica valante del suo è stata portata ancora nulla. Siamo noi, del divino, che abbiamo visto, che si avevano una discussione sul più Europa, perché in tanti in quale iniziava tutto, più Europa, più Europa, bene, viene strumentata anche il bisogno e l'attestativa di tanti soppurati su questa vicenda, senza farmi capire niente, senza farmi capire a tutto il mondo di trattore. E ora, questo è il mio. Così come se non tu, ho visto che ci sono un consigliere che non è adicciata, di cosa parliamo, di cosa parliamo, ma di cosa parliamo di tutti. Noi, posso respaldare, promuoviamo, lo abbiamo già conosciuto, è chiaro, noi vediamo qui un lavoro bene del Consiglio, non lascette di significare qua dentro, se è utile o non è utile. Dovete dimostrare quanti anni, cosa pronuncete, il fatto che il dirige non significa perfettamente nulla. Noi non l'abbiamo dichiarato, abbiamo fatto una battaglia con il Presidente del Consiglio Comunità, che ci ha messo la faccia, era una battaglia che era una invocazione di efficacia e di efficienza, di ridurre a un numero ronale di soddisfazioni delle commissioni, perché ci sembrava uno stretto, un inutile stretto, quello che si stava per comune in Consiglio Comunità e che aveva voluto per tenere, in Consiglio Comunità. Allora, sembra che sia giunto il momento di dare chiarità, caro Signore, sull'atteggiamento del nazionale democratico in questa città. Ripeto, noi non abbiamo mai voluto bloccare l'attività del Consiglio, non ci siamo mai più penenziati su altri che sono pervenuti in questa sala, purtroppo, devo dire che essendo questo l'unico luogo deputato, è l'unico luogo dove io posso, io e gli amici, il gruppo, possiamo differenziarci su un'azione e su un'idea che abbiamo nella città. Ed è quello che abbiamo fatto. Non abbiamo partecipato alle commissioni, abbiamo fatto per dire che la nostra proposta, non partecipiamo alle commissioni quando le teniamo inutili, non partecipiamo alle commissioni quando vogliamo migliorare le commissioni, non si omologano per migliorare i nostri investimenti da loro, perché con noi viene il lavoro con la famiglia e non è l'unico luogo. E le cose si devono condensarci, c'è bisogno che ci sia un bilanciamento, non è possibile convogliare con le commissioni, consigliarie, di giorni al dell'ordine della vita, perché il piano poi facilmente si renda a qualche scuola e da l'altro. Guardate, noi oggi qui abbiamo cercato il nostro modo di attenzione, che lo abbiamo mobilizzato politicamente. Non siamo entrato nel merito dell'abito, che siamo stati per raccogliermi, ma abbiamo voluto spiegare al Consiglio per la presenza della città e a quei pochi, pochi pazienti cittadini che hanno lo sonato e il flaccio di essere presenti a tutte le nostre vitali a tutti. Cioè, cambiamolo così. E abbiamo un'occasione, no? Ci sembra un'occasione utile, perché sono pochi consigli fondamentali e sono questi l'occasione per un punto di qui uno può appennare la propria idea. E' un attore che non è accennato. Questo ci sta parlando, ci siamo dicendo, ma tutti stavamo depenso in contattato di tutti i quali hanno chiuso ad un altro centro. Vedo anche se lo scopriamo. E' un attore che uno si può aggiorare, ci sta appena a fare una이죠, da dove siamo disegno e quindi si deve aggiorare a qualiんですi così. Però vogliamo che si può aggiorare, Se, al di là delle affermazioni, parliamo, diciamo, ci sono carico, ci sono carico delle idee, delle proposte che noi abbiamo portato, ma non il modo in cui abbiamo assistito. Aprivo una proposta del Partito Democratico di Roma, aprivo una proposta sul Butte, su un'arrivaldizione, come se non avessi parlato nessuno, come se non avessi parlato il 30-35% dell'intera ragionanza, viene venuto là, si va là anche perché ci va anche in modo diverso, e la questione si chiama sul ballatorio per non dire che lo stico non è mai parlato. Allora, questo punto, vedrete, decorrettandovi un dito è il tuo carico, il funerio, sul quale, come faccio il nostro bisogno, che noi abbiamo fiducia, che faccia una fede, una fede, una fede, una odontazione, e possa finalmente riannurare i fili di una... ...dol'azienda che non ho parlato, che io non vorrei che quando si chiama, come di precedente, se la consigliere Patti, 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 poi, ci pira Patti, a vedere, poter venire, a stare per me. Grazie. Grazie a voi. Allora, abbiamo un...